Se l'inchiesta Matassa ha accelerato i passaggi e ufficializzato le scelte non è noto, ma il Consiglio Comunale in queste ore vive alcune trasformazioni politiche importanti. Cominciamo da quelle ufficiali. Sabato pomeriggio l'ex assessore della Giunta Buzan, che è il Viramata, ha salutato i democratici riformisti del parlamentare Beppe Picciolo, con cui era stata eletta nel 2013, per aderire al gruppo Fratelli d'Italia del candidato sindaco di Roma, Giorgia Meloni. La mia decisione di lasciare il PDR Sicilia Futura e aderire a Fratelli d'Italia nasce dal fatto che i mediali politici non si ritrovavano più nelle ultime scelte politiche dell'onorevole Picciolo, ha scritto la Amata. Poche ore dopo la replica dello stesso parlamentare. Elvira Amata ha fatto una sua scelta politica di campo diametralmente opposta a quella di Sicilia Futuro, ovvero il centrodestra, e su certi argomenti e scelte non ci può essere margine di dialogo. Pari inoltre che l'ingresso di Elvira Amata in Fratelli d'Italia non sia visto con favore dal gruppo messinese di destra, che potrebbe dire la sua breve contro l'arrivo della consigliera comunale. E di questa mattina sorpresa la scelta del consigliere Santi Zuccarello, che dopo aver salutato il PD con tutto il gruppo genovese ed essere stato anche nominato portavoce di Grande Sud, costola di Forza Italia, ha staccato la spina alla sua brevissima esperienza nel movimento di Gianfranco Miciche. In questi mesi non ho sentito parlare di politica, scrive Zuccarello, non c'è una struttura, un'organizzazione, non si è visto un progetto, un'assemblea, uno stare insieme che avesse come fondamento l'idea di portare avanti proposte per i messinesi. Altri passaggi, probabile effetto dell'inchiesta Matassa, che ha portato la scorsa settimana in carcere, il consigliere di Forza Italia Paolo David. Sono attesi a stretto giro di posta.